Buongiorno a tutti, oggi siamo al lago di Gioviano, località Borgamozzano in provincia di Lucca e faremo la pesca dello storione. Userò attrezzatura, prodotti ed esche della linea Spike Esturio, prodotti al 100% mare in Italy, distribuiti ufficialmente da SC Sport, località Capannori in provincia di Lucca. Questi prodotti li troverete anche sul loro sito www.scsport.com Adesso preparerò le lenzie e ci metteremo in pesca. E speriamo che questi storioni del lago di Gioviano abbiano voglia di mangiare. A dopo! Eccomi qua! Allora, adesso vi faccio vedere la montatura molto semplice per la pesca dello storione. Oggi ho optato per montare un galleggiante Spike Esturio, la linea Spike Esturio, da 10 grammi. Salva nodo, ne basta uno, io ce ne metto due ma ne basta anche uno. Classico piombo, da 15 grammi, salva nodo, girella da 300 libre. Finale dello 0,70 con un amo del 4 barra 0, ad incirca lungo 25 centimetri. Questa è la lenza classica per la pesca dello storione, molto semplice. Eccola qua! Adesso vi farò vedere come si innesca il pellet morbido, logicamente io adopero della linea Spike Esturio sempre, all'aglio e formaggio, perché qua al Gioviano si può pescare anche con il formaggio. E quindi io ho deciso oggi di adoperare questo, prendiamo lo stick, ne tagliamo un pezzettino, eccolo qua, prendiamo l'amo e lo infiliamo nel centro del pellet morbido, eccolo qua. Lo facciamo roteare, così, eccolo qua. Questo è l'innesco perfetto per il nostro storione. Quindi, ricapitoliamo, galleggiante Spike Esturio della linea Spike, salva nodo, piombo, salva nodo, girella e finale. Questo è la lenza e l'innesco per il nostro storione. Questa è la lenza e l'innesco per il nostro storione. Questa è una golden. Questa è una data. Questa è una data. Grazie a tutti.